Buon pomeriggio a tutti, benvenuti qui alla sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, è per me un piacere accogliere i nostri relatori per questo primo evento del Centro Studi Machiavelli che si pone come obiettivo di discutere in modo serio e strutturato temi che finora sono sempre stati trascurati dalla politica mainstream o in generale da tutto ciò che è mainstream e quindi l'obiettivo di giornate come questa a cui seguiranno tante altre è quello di portare relatori che danno un contributo di idee e affrontano temi da un punto di vista che è non quello che fino ad ora avete sempre sentito. Seguiranno altri seminari come questo, posso già annunciare che ce ne saranno altri su sovranità e federalismo, sovranità e moneta, sovranità e informazione, quindi state attenti a quello che facciamo, vi ringrazio della vostra presenza, abbiamo intenzione di arrivare lontano e sono lieto che proprio qui alla Camera si tenga questo numero zero come l'abbiamo chiamato noi del think tank che affronterà temi cosiddetti di sovranismo, di sovranità che fino a ora sono stati troppo trascurati ma che invece sono come risulta da tutti gli eventi, da tutto ciò che ci circonda nel mondo della politica e dell'informazione, sono di strettissima attualità e saranno il futuro. Io vi ringrazio e dichiaro aperti i lavori.